Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Allora oggi riprendiamo con le novità Kawasaki 2023 Infatti poche ore fa sul sito Kawasaki Italia La casa ha inserito altri modelli aggiornati Parliamo della nuova Z650 2023 E anche della Ninja 650 2023 Oggi ci occupiamo della Ninja Magari poi prossimamente vi porto il video anche sulla Z Parlando un attimo di novità Ne abbiamo una che può essere forse interessante Per chi non è molto esperto con le moto Oltre al fatto che Kawasaki comunque ha aggiornato le colorazioni Tra poco le livree ve le mostro Ne abbiamo due per il prossimo anno Mentre la 2022 si poteva acquistare in tre diverse livree Quindi per il prossimo anno c'è una colorazione in meno Ma è interessante sulla Ninja 650 Interessante per chi è poco esperto Molto poco esperto Arriva il Kawasaki Traction Control Selezionabile su due diversi livelli Più un livello che lo può anche disattivare Quindi in totale In realtà abbiamo tre diversi settaggi per il Traction Control Abbiamo il livello 1 che è quello meno invasivo Come aiuti Il livello 2 che è quello un pochettino più invasivo E poi c'è un terzo livello che permette di spegnere il Traction Control Oltre a ciò i fari, le luci che diventano full LED Quindi queste qua sono le novità per quanto riguarda la Ninja 650 Poi adesso vi mostro le nuove livree Discorso Traction Control Può essere dicevo all'inizio una cosa interessante Per chi non è molto esperto È arrivato anche recentemente sulla nuova Versi 650 Il modello 2022 è quello rivisto un po' anche nell'estetica L'ho provata giusto cosa è stato quest'anno La nuova Versi 650 Però vi dico Traction Control Sì bene che è arrivato sulla Ninja E anche sulla Z9 Però secondo me non serve veramente a nulla Cioè o veramente È la vostra prima moto in assoluto O se no veramente Traction Control Su moto di questo tipo Con questo motore Con questa potenza Secondo me Serve veramente poco a nulla È vero che comunque sia È qualcosa in più Meglio in più come aiuti che in meno Però onestamente vi dico Cioè è un po' come per quanto riguarda il discorso Versi 650 Cioè avete Traction Control Ma alla fine Se avete comunque un minimo di esperienza Non è che ve ne fate poi tantissimo Comunque sia abbiamo questa novità Per il resto la Ninja 650 2023 È uguale al modello 2022 Quindi come tecnica la moto non cambia Potenza, coppia, cilindrata Ciclistica, strumentazione Abbiamo però due nuove colorazioni Che vi mostro subito Questa è la prima È la nuova Lime Green 2023 È la livrea che prende il posto Della vecchia Lime Green 2022 Che vedete qua in basso Si va a perdere diciamo Nello schema cromatico Il colore bianco E abbiamo una moto Il prossimo anno Un po' più tutta verde Come notate Come estete Che invece la moto è rimasta identica Quindi la moto è comunque Sempre molto carina Nelle forme, no? Poi la seconda livrea 2023 Invece è la nuova Metallic Matte Grafene Steel Grey Che è simile alla versione 2022 Se non che cambia il colore degli adesivi L'anno scorso La moto che vedete qua in basso di fianco In piccolo Aveva gli adesivi rossi Quindi contrasto nero-grigio con il rosso Invece dal prossimo anno Il contrasto è tra nero-grigio e il verde Tutto qua ragazzi Si va a perdere purtroppo La livrea bellissima Molto particolare La perla Robotic White Che vedete qui in basso in piccolo Che secondo me Era quella un pochettino più Più bella Per quanto riguarda la Ninja 650 Detto questo Non ci sono ancora indicazioni Per quanto riguarda il prezzo Sul sito Kawasaki Italia La scheda della Ninja 650 Nella parte dove in genere Kawasaki mette prezzo Al momento è vuota È bianca Quindi il prezzo poi verrà comunicato Vi ricordo che la versione 2022 Costava dalle 8200 euro circa La livrea quella nera 8340 circa La colorazione Quella per Robotic White Quella bianca E la lime green Quindi penso che i prezzi Penso che potrebbero rimanere Più o meno gli stessi Anche perché aumentare il prezzo Di questa moto Secondo me sarebbe un suicidio Peggio di quanto giallo E adesso perché è una moto Che si va a scontrare Come prezzo Con altre moto Di fascia superiore E penso alla Honda E ne esce Praticamente ovunque In tutti i mercati europei Con le ossa rotte Comunque sia Per quanto riguarda la Ninja Magari vi ricordo un attimo Come è fatta Perché io l'ho provata Quattro anni fa La versione vecchia 2018 Ma alla fine Il motore è sempre rimasto Lo stesso Potenza e coppia Diciamo che è cambiata Come estetica Strumentazione Però la versione Che io ho provato Fondamentalmente È sempre la stessa Vi dico È una moto Che vi lascio Alla fine di questo video La mia prova Di quattro anni fa Non mi ha assolutamente Entusiasmato Cioè secondo me Il motore è comunque Un motore Abbastanza morto Per questo che dico Che comunque Il traction control Su questa moto Serve a poco Però dipende anche voi Un po' cosa cercate Se non volete Una moto Che vi mette in difficoltà Come prestazioni La Ninja 650 Potrebbe comunque fare Al caso vostro Ecco Per il resto Frenava bene Insomma Abbastanza agile È una sportivetta comoda Diciamo che più Secondo me Da inquadrare Come sport tourer Cioè quelle moto sportive Nelle linee Ma che alla fine Permettono anche Di guidare in maniera Abbastanza comoda Magari anche in coppia Se volete magari Farvi un viaggetto Al mare Oppure al lago Però ecco Non è esattamente Un mostro di prestazioni Tecnicamente Qui di fianco Vi lascio qualche immagine Della versione 2022-2021 Della Ninja 650 Perché non ci sono ancora foto Della versione 2023 Con livrea nuova Tecnicamente La moto Monta al motore Bicilindrico Cilindrata 649 650 Con una potenza Di 68 cavalli A 8000 giri Mentre la coppia Di 64 Nm A 6800 giri La moto pesa in marcia A 193 kg Altezza sella 790 mm Serbatoio 15 litri Ciclistica Teletrolici in acciaio Sospensione Con la forcella Telescopica Da 41 mm Impianto frenante Doppio disco all'anteriore Da 300 mm Con pinza A due pistoncini Al posteriore Singolo disco 220 mm Con pinza Singolo pistoncino Gommata 120-160 Presente l'ABS Strumentazione molto carina La strumentazione vista anche sul modello 2022 Che è lo stesso che Kawasaki Come strumentazione ha inserito anche su altri modelli nuovi Schermo TFT Con anche connettività bluetooth Con il vostro smartphone E Novità per l'appunto Il Kawasaki traction control Su tre diversi livelli Livello 1 Livello 2 E disattivato Ovviamente la moto si può acquistare anche in versione depotenziata Patenti A2 E in quel caso mi sembra che Il Kawasaki traction control Se non sbaglio Abbia soltanto un livello di intervento Quindi questo è quanto ragazzi Vi terrò aggiornati lato prezzo Non appena Kawasaki li comunicherà Aggiungerò le info di questo video qui in basso E vi dirò il modello nuovo Quanto costa Però potrebbe volerci magari Un po' di tempo Perché comunque Un po' come anche la Honda Non sempre i prezzi arrivano Velocemente Quindi magari potrebbe essere questione Di giorni Settimane Come anche mesi Magari nei commenti Fatemi sapere insomma Voi cosa ne pensate Di questa novità Dell'arrivo Del traction control Su questa moto E discorso anche Prezzo Questi 8200 Della versione 2022 I poteri C8000 Penso io E5 Per la pressione Per il prossimo anno Se secondo voi È un prezzo adeguato O secondo voi Invece in giro C'è di meglio E se l'avete O provata Oppure comprata Come vi state trovando E cosa ne pensate Lato prestazione In generale Comunque Da questo video È tutto Vedete un like Se vi è piaciuto Iscrivetevi Nostra YouTube Con lo Instagram E di NNB A caro ufficiale E noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video Ciao 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 Ciao